Gli riscaldamenti, pagare il soldo, e no, dall'altro, e prima l'ora è andata insomma. Ieri 169 euro per soldi, allora vedi si diceva 2 a 0 all'85esimo. Sì, però lo sa già lui te lo dice. Tanto che almeno sappiamo che c'è l'ambiente che gioca. Ma quello l'ho visto. Sì, però lo sa già lui te lo dice. Sì, però lo sa già lui te lo dice. Sì, se lo sa già lui te lo dice. Sì, se lo sa già lui te lo dice. Se l'è in calore. Sì, se lo sa lui. 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 Nooo. Nooo. Ma perché? Ma non puoi uscire. Perché? Ma dove l'ha messo davanti? Dai, ma guardalo. Ma veramente ha un dito di mezzo. È nostro di amore. Ho lo butti fuori. Ho lo butti fuori. Ma non la buttiamo. Però sono troppo avanti di arrivare lì per fuori. devo avere un comando, ho fatto il rispetto del cuore. Viene palla. Vieni palla. No Ale. No Ale. Rientra. Va bene. Bravo, Mancio. Calma, calma Dai, all in the box All in the box Buon gioco Bravo, arbitro Calma, Mario Guarda, ragazzi No, animo Bravo Bravo, bravo Bravo, dico Questo è il mio posto Sica bella Non lo far girare, mi guido, non lo far girare La differenza di tecnica Bravo, dico Bravo, dico E al mezzo Dai, ragazzi Bravo, dico Arbitro Arbitro 10 secondi 10 secondi Arbitro 10 secondi Oh, vai via Vai via Dai, questo è lo stile Juve Arbitro Stile Juve Stile Juve Sì Sì Alla raga Alla Alla Grande Leo